Ciao a tutti, oggi video purtroppo molto breve perché sono appena arrivato dalla partita di calcio che ovviamente abbiamo perso, peccato, però ci tenevo molto a farvi uscire un video anche oggi visto che vi ho promesso un video al giorno per 30 giorni. Oggi vi spiego brevemente cos'è l'intelligenza artificiale, vi andrò a far vedere anche secondo le ultime ricerche quanto dovrebbe crescere il settore appunto dell'intelligenza artificiale e poi vi faccio vedere secondo me quali potrebbero essere tre player che domineranno quel settore o comunque aiuteranno le aziende che diventeranno successivamente dominanti in quel settore, soprattutto nella creazione dell'infrastruttura. Molto brevemente cos'è l'intelligenza artificiale? Chiediamolo direttamente appunto ad un'intelligenza artificiale, questo è ChadGPT, un'intelligenza artificiale creata da OpenAI che appunto è una fondazione che è nata come no profit e poi successivamente ha cambiato anche il suo statuto ed è stata finanziata da grandi investitori quali Elon Musk e anche grandi aziende come Microsoft. Cosa si dice appunto ChadGPT? L'intelligenza artificiale è una disciplina che si concentra sullo sviluppo di sistemi informatici capaci di eseguire compiti che dichiederebbero normalmente l'intelletto umano come il riconoscimento delle immagini, la comprensione del linguaggio naturale, qua vabbè c'è un errore però dice il prevedere il comportamento umano e la risoluzione dei problemi. Ovviamente tutto questo è ottenuto attraverso l'utilizzo di algoritmi di apprendimento automatici e di reti neurali. Questo cosa vuol dire? Qual è probabilmente una delle applicazioni più importanti che possiamo avere nel futuro? La guida autonoma. E in questo inevitabilmente i due leader sono Tesla e Waymo. Ci sarebbe anche da parlare su NIO ma tra l'altro se avete piacere vi farò un video a riguardo su NIO visto che comunque ho una posizione abbastanza grande tra tutti e tre i portafogli quindi se avete piacere che vi faccia un video appunto a riguardo su NIO lasciando un bel like e un commento. Ora vi chiedo di brevemente di spiegarci meglio cos'è il deep learning perché voglio farvelo vedere che secondo me è il vero game changer dell'intelligenza artificiale. Intanto che c'è a GPT mi risponde e volevo farvi vedere secondo questa ricerca qua quanto dovrebbe crescere il settore dell'intelligenza artificiale da qua al 2030. addirittura del 38% annuo. Cioè capite quanto potrebbe diventare grande il mercato fra otto anni? Veramente senza senso. Secondo questa ricerca in Europa ci difendiamo ancora abbastanza bene e ovviamente magari vi lascio il link in descrizione di questa ricerca qua. Qua parla di alcune aziende che potrebbero essere interessanti lato intelligenza artificiale e tre di quelle che avevo pensato io sono all'interno di questa lista qua. Ve lo dico già le tre aziende che andiamo a vedere adesso sono Microsoft, Google e Nvidia che per chi non sapesse sono tre delle mie più grandi posizioni nel portafoglio. Tornando al discorso deep learning che come vi dicevo prima secondo me è il game changer appunto di lato intelligenza artificiale. Qua ci dice è una sottodisciplina dell'intelligenza artificiale che si concentra sull'utilizzo di reti neurali artificiali molto complesse per raggiungere una comprensione profonda dei dati. E la cosa figa è che questi reti neurali sono ispirati alla struttura del cervello umano e sono in grado di imparare dai dati di input per effettuare previsioni o decisioni. Quindi diciamo che l'algoritmo viene allenato con una serie di input costanti e capite che nel momento in cui l'input è costante l'apprendimento è esponenziale. E infatti qua ci fa vedere alcune applicazioni tipo il deep learning è stato utilizzato con successo in molte applicazioni come il riconoscimento delle immagini, la traduzione automatica e l'analisi del testo. Così trovate che appunto ChatGPT utilizza ovviamente il deep learning per allenarsi. Ora vi farò vedere brevemente la mia valutazione su tutte e tre le aziende però ve lo dico già purtroppo oggi il video sarà molto breve perché devo scappare ma ci siano comunque a farvi vedere un video per oggi. Quindi se avete piacere che io vada ad analizzare le tre aziende molto più nel dettaglio magari anche singolarmente fatemi sapere questo con un like e un commento. Vi chiedo scusa purtroppo oggi posso solo fare così. Per quanto riguarda il rating quella messa meglio secondo l'algoritmo sviluppato da me è Microsoft infatti ha un rating da 1 a 10 di 7,82. Ovviamente hanno tutte e tre rating molto alti semplicemente perché hanno bilanci super solidi, crescite, stimate molto alte e ovviamente ho prodotto tra in un settore molto promettente. Quindi inevitabilmente le stime degli analisti sui utili futuri sono abbastanza elevate. Per quanto riguarda il sito patrimoniale quella inevitabilmente messa meglio è Google infatti ha un voto di 9,78 quindi uno sito patrimoniale praticamente perfetto contro 8,5 di entrambe. 8,33 per Nvidia e 8,78 di Microsoft quindi tra gente super solide. Ora andiamo a vedere il conto economico. Per quanto riguarda il conto economico invece la situazione cambia leggermente infatti prende il sopravvento Microsoft con una valutazione addirittura di 9,56. Per farvi capire Microsoft ha un gross margin di 68 e un net margin di 33. Cioè è follia ragazzi non so se vi rendete conto. Ho visto gente nei commenti di uno degli scorsi video criticare Microsoft. Non so come si possa è probabilmente insieme ad Alphabet la migliore azienda per quanto riguarda i bilanci sto parlando. È una delle migliori aziende che ci sia al mondo e i dati lo dico non è una mia opinione personale. Per quanto riguarda invece la votazione sui multipli Nvidia è nettamente quella messo peggio perché ha un price earnings addirittura. Addirittura di 86 infatti ha un rating di 3 su 10 perché ha multipli molto elevati. Questo anche perché stima crescite future molto più elevate rispetto a Microsoft e Google che invece hanno rating 5,22 per Microsoft e 6,89 per Alphabet. Alphabet è diventata interessante anche per quanto riguarda i multipli signori. Ora andiamo a vedere la parte un po' più succulenta ovvero discounted cash flow. Per quanto riguarda Microsoft otteniamo una sopravvalutazione all'incirca di un 2%. Per Nvidia la sopravvalutazione è molto più alta addirittura un 30% di sopravvalutazione. E invece l'unica che prevede una sottolotazione per quanto riguarda il discounted cash flow è Google. Andiamo a vedere se la situazione sui multipli cambia o se è sempre la stessa. Secondo la mia valutazione personale Microsoft sembra essere sui multipli quella più sottolotata. Infatti teoricamente stimando una cristalli in circa del 15-16% per i prossimi 3 anni per quanto riguarda i utili otteniamo un possibile guadagno del 37% da qua appunto a 3 anni. Per quanto riguarda Nvidia e Google il possibile guadagno si attesta invece intorno al 30%. Questo dovuto principalmente al fatto che entrambe hanno rimbalzato molto negli ultimi giorni. E questo ne ha ridotto il possibile gain da qua a 3 anni. Ma vi dico sinceramente di monitorare la situazione e guardare qualche ritracciamento che potrebbero crearsi ottime ottime occasioni per tutte e tre. Detto questo purtroppo vi devo lasciare. Fatemi sapere qua sotto se avete piacere che io vado ad analizzarle meglio. Purtroppo per oggi vi dovete accontentare di questo. Spero che comunque abbiate apprezzato il gesto e ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti!